Ciao a tutti e benvenuti su Solo Cose 9 Oggi andiamo a preparare il Tamago Sando Una ricetta giapponese che mi ricorda tantissimo il tempo che ho passato nel paese del sollevante È una ricetta semplicissima e praticissima da fare Un panino da portarsi in giro, un sando Che è un po' una storpiatura giapponese per sandwich Infatti Tamago è uovo, è un qualcosa fatto con l'uovo E Sando è sandwich, quindi Tamago Sando è un sandwich di uova Però è molto particolare e molto buono Ma prima di partire vi ricordo che se questo tipo di contenuto vi piace Potete mettere un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella Per non perdere altri contenuti di questo tipo e aiutare il canale a crescere Grazie! Inoltre sul sito web www.solocose9.it troverete un mini corso di cucina gratuito Basterà iscriversi alla newsletter, tranquilli non vi faccio spam e non venderò i vostri dati Ma andiamo a preparare il Tamago Sando Come prima cosa prendiamo un pentolino con dell'acqua calda E le uova che sono l'ingrediente principale per questa ricetta Quando l'acqua sta bollendo, o sta per bollino insomma come in questo caso Buttiamo dentro le uova, tanto dobbiamo farle diventare uova sode completamente Ricordiamoci il coperchio per risparmiare elettricità Una volta cotte viene il momento di spelarle, sbucciarle, che dir si voglia E forse la parte più noiosa di tutta questa ricetta però è necessario farla Io qua butto la buccia, vedete lì c'ho del tè, delle foglie di tè che faccio sempre le degustazioni Comunque vado a spelarle, sbucciarle e poi le metto sempre nel pentolino dove erano prima Dove lo fate cuocere, questo perché in questo modo le andrò a sciacquare sotto l'acqua corrente un attimo Perché sa mai che rimane qualche pezzettino di guscio, non fa niente per carità Però magari dà fastidio da sentire sotto i denti perché fa clic croc Una volta fatta questa operazione andiamo a togliere i rossi separandoli dalla parte dell'albume Dal bianco e li mettiamo da parte dentro la ciotolina Se voi usate un piatto, insomma una ciotolina, un piatto, quello che vi viene meglio Io lo faccio con tutti i rossi, ecco qui, a massima velocità Poi mettiamo due cucchiai belli pieni di maionese Questa è una ricetta molto uovosa, quindi non vi aspettate qualcosa di leggero Ma è qualcosa di importante, di bello calorico Ma che vi dà veramente la carica per tutta la giornata Poi con una forchetta schiacciamo l'uovo rosso, la parte rossa dell'uovo con la maionese In modo da creare una prima cremina bella soda, bella spessa e bella proteica Tutto sommato un qualcosa che fa piacere La arricchiamo con un pizzico di sale e un po' di pepe Questo a vostro piacere se vi va di aggiungerlo oppure no Volendo potete anche aggiungere un goccino di latte come in questo caso Per rendere la crema più cremosa, più morbida e anche più piacevole State tranquilli perché se non ne mettete troppo non vi andrà poi a inzuppare troppo il panino Perché il rosso era comunque bello sodo E se volete potete aggiungere anche un pochino di senape Ottenuta la cremina, tagliamo anche il bianco d'uovo, l'albume in pezzettini Se riuscite a fare dei quadratini è la cosa migliore Se no comunque sdadolatelo al meglio delle vostre capacità Ecco qui sdadolamento alla massima velocità E poi non ci resta che mescolare il tutto Cercando di non far uscire l'uovo, di non buttare tutto per terra Io adesso qua ho fatto molta attenzione perché sono solito fare disastri in cucina Ma sono riuscito a non fare troppo casino Prendiamo il pane, la fetta di pan carré Se volete potete spalmarla anche con un goccino di burro Se siete molto golosi ma io non l'ho fatto perché già così mi sembrava abbastanza importante Però c'è chi lo fa Diciamo che si può fare anche in quel modo lì O si può mettere anche la senape spalmata sul pane Copriamo con una seconda fetta di pane E schiacciamo un po' sui bordi per dargli un po' di consistenza Questo prima di tagliarlo a metà come un vero e proprio sandwich Infatti questo è il tamago sando Tutto sommato è un sandwich con il tamago Ecco qua il sandwich è pronto Guardate che bello che è Mi raccomando fatemi sapere se vi è piaciuto Ebbene anche per oggi vi ho detto tutto Grazie per essere stati con me per questa gustosa ricetta Spero la proverete e mi facciate sapere nei commenti qua sotto che cosa ne pensate Ci vediamo domani per un'ontosiasmante video Ciao Ciao